Noi consumatori contro la pizza surgelata. Il presidente dell'associazione Angelo Pisani attacca la Nestlé, rea a suo dire di lanciare sul mercato un nuovo prodotto surgelato che non ha nulla a che fare con la pizza napoletana. La politica ha fatto una pizza, anzi ha fatto un pasticcio più che una pizza, perché sicuramente con questa operazione di marketing politico si tende a svedere quella che è la tradizione locale di una delle eccellenze campane come la pizza e a dare ai consumatori un messaggio ingannevole, quello della pizza napoletana che certamente non è quella surgelata. Poi il mercato, i consumatori, i clienti, coloro i quali mangiano la pizza, sapranno dire meglio di tutti quanti se è più buona la pizza surgelata o la pizza fatta al forno in una pizzeria. La regione Campania, con un finanziamento di 50 milioni fino al 2020, realizzerà tre linee di produzione di pizze surgelate a Benevento. Nello stabilimento saranno sfornate 350 pizze al minuto, per un totale di 159 assunzioni come dipendenti. Scettico Luciano Sorbillo che precisa. Ma mi sento proprio rubato dalle tradizioni, da un modo di lavorare che ci hanno tramandato i nostri nonni, i nostri genitori. È impensabile pensare che un robot possa sostituire un uomo nella sua manualità, quanto è impensabile pensare alla cottura di una pizza, quando in questo momento storico in Campania, Napoli, in Italia tutto, ma anche il ruolo del fornaio.